Sì, diciamo che dopo l'Olimpiade il mio fisico era cambiato, dovevo un attimo riaspustarmi. Non ho mollato, ci ho preso fino alla fine e ho risultato. Cos'è successo e cos'è cambiato quest'anno? Diciamo che l'obiettivo era comunque di provare a fare un'Olimpiade vera e propria. Non ho mai mollato, ho avuto le possibilità comunque di allenarmi sempre, palestra, piscina, quindi ce l'ho provato fino alla fine. Non è facile essere allenato da un padre? Che succede a casa? Ci sono alte e basse, diciamo, però riusciamo a gestire bene. Adesso io non vivo più a casa con i miei, quindi diciamo un po' abbiamo staccato. Però, diciamo, sì, a gestirla. Io in acqua lo chiamo Stefano, un allenatore normale, a casa, a babbo. La dedica è per lui o per chi? Sì, anche per i miei nonni, la mia famiglia che davvero mi sta dietro tantissimo e alla mia zia che non c'è più.